Ciao a tutti ragazzi, qui il vostro Caprapazzo e oggi siamo con me e Magic, fatti vedere amico mio. E ora puoi anche andare. Oggi, spacchetto mento, epico, finito, ma vabbè, abbiamo questo. L'ho preso oggi, stanno a 19,90 e mi sono rimasti 10 centesimi. Apriamo una petizione per dare dei soldi a Simona. No, non mi servono. Allora, vedo che qua c'è dello scotch, è anche qua dietro. Quindi io direi di iniziare. Allora, intanto ve la faccio vedere esteticamente. Ancora, cioè, abbiamo questo qua, blam, 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 e blam. Aspetta, ve lo faccio vedere, non mi rompete le pallescende. Adesso faccio questo, dai. No, 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 dammi qua, dammi, dammi, ci penso io, porco. No, no, non lo rovino, io ho paura di te. Allora, no, no, scotex maledetto. Ma non è scotex. Perchè mi risponde Da solo Allora Vieni qua a Magic Key Arrivo Calma mi sento che ho un cazzo alla pelle Tu sei Basta aprire da un lato Lui si vuole complicare la vita signore Mi sembra ovvio A me mi chiamo Giovanni Per un motivo Tipo adesso arrivano tutti e dicono Ma adesso diciamo Giovanni Perchè magari non si chiama Giovanni E come mi chiamo? Simone credo Come se sei una puttana No Tanto non è per bambini questo video E adesso Se faccio anche gente Bambine Dei bambini che mi seguono Quindi Voglio aprire E qua possiamo vedere in onda prima La nostra carta bellissima Bellissimo Mewtwo Mewtwo X Come potete vedere Che io direi di mettere E poi vi faccio anche vedere la La sta carta Un codice per chi lo vuole La DGC se volete Aspettiamo 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 La ghello Quattro pacchetti Quattro pacchetti Quattro pacchetti Quello roba Vabbè Allora Iniziamo da Iniziamo da loro due Adesso Iniziamo Signori Sono un po' rovinati Questi pacchetti Non è per dire Deve essere I giapponesi Non sono tanto bravi Ad aprire pacchetti No Adesso sono bravi Non guardare Le cinesi Le cinesi Sono bravi Sono bravi Con i pacchetti If you know what I mean Allora Pronti One Two Adesso non so Aspettate Non vedete al contrario Adesso non lo so Scusate Se si vede al contrario Sto video Ma Se si vede al contrario Io Muoio male Dentro Ma Vabbè Spero che vediate lo stesso Allora Niente Mi sa E' fatto Non si è niente Rip Adesso no Perché non mi ricordo mai i trick Che bello questo Questo mi mancava Non apro Cad il solello Ma il solello La da un po' Codice per voi Ok Ok Chiomito qua dentro Adesso Forse te le regalo Cosa Forse te le regalo alcune Iniziamo poi con Chi è Il nostro amico Io Non l'ho mai trovato No Scasso L'ho trovato Pure Vabbè Ci sono i pacchetti Che si 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 riescono A aprire bene E poi quelli Che non si riescono A capire Io li odio Questi pacchetti Quando li apri Si spacciano Iniziamo One Two Io adesso Vediamo Una mazza E non ho voglia di leggere Perché Enti Porco schifo raga Tappolele Tappolele Si Tappolele raga Non la trovavo da Anni Anni raga Quando Ma poi GX Signore Si si GX Bella Bella Mi piace Mi piace E siamo a due raga Siamo a due Doppie GX Signore Una X E una GX Mi piace Mi piace Mi gusta Mi gusta questi pacchetti Se ne troviamo un'altra Raga Siamo a cavallo Voglio bene Voglio 50.000 like Odice Per voi E adesso Se posso Si si se vuoi Aprire uno Signori E' il mio momento Vai aprire uno Io c'ho la mia tecnica Apri il pacchetto Non guardare Così c'è per voi Subito Non lo puoi fare all'ultimo Vai Spostiamo questo Ah beh Sì Sì